bene ben trovati come promesso è l'approfondimento del giorno della mattinata per advisory update parliamo di fintech parliamo di startup parliamo di un nuovo modo un nuovo modello di investimento per gli investimenti insomma in questa in quest'area in questo settore anche se non è esattamente così insomma non è propriamente nuovo adesso vi spieghiamo di cosa stiamo parlando e allora ci facciamo aiutare dal nostro ospite che è matteo masserdotti fondatore di viceversa matteo eccoti qua buongiorno e grazie per la disponibilità buongiorno grazie a voi allora fondatore founder di viceversa viceversa è una startup che è stata fondata nel 2020 a fine 2020 io ti chiederei subito poi andiamo al centro del nostro tema però insomma aprire una startup a fine 2020 che è l'anno della pandemia non stiamo a spiegare nuovamente che hanno che hanno è stato perché oramai ci esce dalle orecchie non so serve serve coraggio per aprire una startup nell'anno della pandemia serve non so in coscienza è particolare oppure no? Allora diciamo che credo che per aprire una startup un po' di coscienza serva sempre però la verità è che la pandemia secondo me ha accelerato molto alcuni processi di trasformazione digitale sui quali il nostro modello si basa per cui la crescita dell'e commerce per esempio è stata un'opportunità molto chiara per il nostro modello di business quindi diciamo è sicuramente un modello che va un po' in controtendenza rispetto a tutti gli altri eventi che purtroppo la pandemia ha generato di sicuro l'e commerce effettivamente è stato una delle uno dei fattori che ha funzionato meglio insomma nel 2020 tant'è che abbiamo ancora tutti nella testa insomma e memorizzato le strade non dico deserte perché appunto erano piene insomma sia dei riders ma anche di coloro i quali andavano si occupavano della consegna della merce ordinata sull'e commerce e l'e commerce credo che sia un settore che in qualche modo ricorre insomma in questa nostra chiacchierata e su cui magari ritorniamo tra poco ora tornando a noi abbiamo detto viceversa e il vostro obiettivo anche in virtù di una notizia che è stata pubblicata qualche giorno fa e su cui adesso andiamo è sviluppare quello che ripeto nel nostro titolo abbiamo definito un nuovo modello di investimento l'abbiamo messo tra virgolette perché forse sarà nuovo in italia ma non nel resto dell'europa e allora che tipo di nuovo modello di investimento e insomma la seconda domanda perché come mai insomma o meglio spiegaci meglio di come questo questo sistema questo modello all'estero nel resto dell'europa quantomeno sta funzionando e sta andando così diciamo col vento in poppa sì dunque è chiaro che si chiama revenue based financing quello che facciamo è chiaro che in italia è nuovo lo stiamo importando noi è relativamente nuovo anche in in altri paesi in europa in particolare diciamo continentale è sicuramente abbastanza recente paesi anglosassoni come gli stati uniti e il regno unito invece vedono un utilizzo molto più diciamo molto più costante di questo modello tutte le innovazioni soprattutto nel settore finanziario di solito vengono da questi da questi da questi paesi in particolare stati uniti e regno unito e questa non ha fatto eccezione quindi è un modello che è stato sdoganato da una società canadese che si chiama clearco che lo ha poi diciamo diffuso a livello internazionale e poi nel corso diciamo da quando siamo nati anche noi hanno iniziato a nascere un po di player anche in europa c'è qualcuno in appunto regno unito qualcuno in spagna fondamentalmente ci occupiamo di investire in aziende digitali prevalentemente e commerce attraverso una metodologia basata sulla condivisione dei ricavi quindi l'investimento viene rimborsato e noi rientriamo nel nostro multiplo di investimento attraverso una condivisione dei ricavi quanto più le aziende crescono quanto più velocemente avviene il rimborso del multiplo quanto meno le aziende crescono quanto più lentamente avviene questo rimborso dunque mi verrebbe da dire dato che hai detto che è un modello relativamente giovane nel resto dell'europa immagino che insomma e siccome tutto tutto è sempre più accelerato ed è usato tu stesso questa questa parola anche se relativamente nuovo come come modello insomma ci sono alcuni paesi dove corre di più in in altri dove corre di meno e questo sta accadendo appunto più lontano dall'italia che che qui allora hai usato le tre le tre parole magiche diciamo così cioè revenue based financing hai già spiegato sostanzialmente di che cosa di che cosa si tratta letteralmente di cosa stiamo parlando e perché sta avendo in qualche modo successo Matteo io credo che il motivo principale diciamo anche le aziende con le quali abbiamo instaurato questa relazione nel corso di questi di questi mesi che abbiamo lavorato poi diciamo in penombra io credo che da parte loro ci sia sicuramente apprezzino molto l'utilizzo di questo strumento in linea con la loro crescita come dicevo prima il revenue based financing ha la peculiarità di utilizzare come diciamo per parametro periodo in borso il fatturato i ricavi per l'azienda e quindi quello che succede nella pratica è che quando l'azienda in un periodo determinato sta andando bene paga di più e quando l'azienda in un periodo determinato sta andando meno bene paga di meno e questo sembra banale però quando ha un effetto sul cash flow dell'azienda effettivamente cambia molte cose perché nei mesi di difficoltà effettivamente pagare di meno aiuta molto e sembra banale da raggiungere come risultato ma serve l'utilizzo necessario della tecnologia per arrivare a questo punto quindi quello che fa quello che succede è che noi ci colleghiamo agli account operativi dell'azienda appunto prevalentemente sono e commerce quindi le piattaforme di vendita come shopify prestashop magento eccetera e le piattaforme di advertising come facebook e google per monitorare l'andamento dell'azienda costantemente quindi giorno su giorno noi vediamo come l'azienda sta effettivamente andando e conseguentemente possiamo anche supportarla dando ulteriori investimenti nei momenti in cui l'azienda ne ha più bisogno penso per esempio alla stagionalità o ad eventi che per il per l'e commerce sono molto importanti come black friday che sarà anche sarà breve quindi la flessibilità di questo strumento e il fatto che il rimborso sia in proporzione all'andamento dell'azienda sicuramente sono le cose che lo lo fanno apprezzare di più e che lo hanno diciamo fatto espandere così velocemente facciamo degli esempi allora cioè a chi nel concreto viene rivolto può essere rivolto questo tipo di di investimento quali sono i settori più più interessati anche insomma attraverso la vostra esperienza personale insomma quale può essere prima abbiamo citato l'e commerce può essere che ci sia ci sia questo come settore ad esempio tra i più tra più interessati matteo allora considera che noi oggi applichiamo questo modello esclusivamente ad aziende digitali che operano un modello b2c quindi servono direttamente un consumatore finale esatto o direct to consumer che è appunto più o meno la stessa cosa prevalentemente questo perché investendo esclusivamente in spese di marketing questo tipo di relazione cioè l'investimento in marketing e la generazione di una crescita del fatturato è molto tipico del settore e commerce e dei modelli di business b2c o d2c quindi per il momento noi serviamo solo questa particolare categoria diciamo di aziende digitali però in tutti i settori quindi abbiamo fatto aziende di che vendono prodotti nautici aziende che vendono occhiali da sole aziende che vendono maglieria stiamo guardando aziende che vendono prodotti tecnici per motociclisti quindi aziende che comunque già vendono in italia o anche in europa a tantissimi clienti e hanno bisogno di aumentare la loro visibilità sul mercato quindi devono comprare advertising dalle principali piattaforme e noi fondamentalmente le finanziamo prevedendo quale sarà la crescita futura del loro del loro fatturato posso chiederti perché la scelta del nome viceversa matteo sì certo l'idea è che con viceversa vogliamo avere un approccio diverso al mondo della finanza il revenue base financing permette di allineare gli interessi tra noi e l'azienda nella quale investiamo e questo chiaramente cambia molto il il rapporto tra noi e loro e quindi viceversa vuole rappresentare un diciamo a un segnale di qualcosa che cambia una direzione nuova nel mondo della finanza proviamo anche a fotografare un po scusate il settore stiamo parlando appunto di fintech e di startup argomento l'unico ostico però insomma diciamo che c'è sempre stato un briciolo di diffidenza mi permetto di usare questa espressione nei confronti delle startup perché io credo ma correggimi se sbaglio ovviamente che ci sia ancora un po la così l'idea che vabbè sì la startup ma poi sappiamo che alla fine rimane insomma non sono realtà che difficilmente poi riescono a diventare grandi non riescono a diventare a consolidarsi come una un'impresa una compagnia vera e propria è vero come detto tu proprio in apertura che con la pandemia ci sono determinate situazioni che sono cambiate che hanno accelerato verso una direzione particolare insomma ti chiedo in generale che idea avete insomma del vostro settore se effettivamente sta vivendo una una seconda giovinezza mi permetto di usare questa espressione o se invece c'è ancora diciamo molto è ancora molto complicato ecco diventare grandi e servirebbe magari un sostegno maggiore da parte del governo o in generale servirebbero situazioni diverse e che magari siano potesse possano mettervi nelle condizioni di dare il meglio insomma da questo punto di vista matteo allora sicuramente argomento è molto complesso e anche con tante possibili sfaccettature sembrerebbe un'ora tu dici per assolutamente un discorso a parte però in sintesi per come noi stiamo approcciando questa opportunità le aziende che si rivolgono a noi non devono essere necessariamente start up intese come aziende che hanno un modello di business estremamente scalabile o disruptive a livello internazionale noi ci rivolgiamo ad e-commerce che hanno magari anche una presenza locale e vogliono crescere per esempio uscire dalla Lombardia e arrivare in tutta Italia quindi non è necessariamente il nostro cliente la classica azienda che ricorre al fondo di venture capital per crescere a livello internazionale il problema principale invece per le start up che hanno questa ambizione è che i fondi a disposizione in Italia sono ancora pochi e quindi tutte le diciamo i discorsi che si potrebbero fare penso che dovrebbero andare un po' in quella direzione mi è venuta una curiosità perché comunque prima di salutarci c'è anche la diciamo avete insomma c'è stato una avete compiuto una certa una certa operazione in questi giorni e che riguarda una base da cui evidentemente far sviluppare in Italia appunto il cosiddetto revenue based financing e da qui ti chiedo anche se c'è una fascia diciamo c'è un minimo di investimento massimo previsto o dipende insomma dall'algoritmo insomma come dicevi tu semplicemente dal fatturato e dai ricavi insomma ci si muove tra un minimo e un massimo oppure no? sì assolutamente il minimo che investiamo sono 10 mila euro il massimo ad oggi è un milione tendenzialmente si tratta di aziende che fatturano tra 200 mila euro e massimo 10 milioni e hanno appunto un marketing budget da investire o che ricercano in questo perimetro tra i 10 mila euro e un milione e lì noi appunto interveniamo finanziando le spese di marketing e allora buon lavoro grazie per essere stato qui con noi a Matteo Masserdotti founder uno dei fondatori di Viceversa dicevo insomma buon lavoro un bocca al lupo per il resto della vostra per il proseguimento ovviamente della vostra attività e alla prossima grazie mille a voi a presto